Grazie a tutti. Invece il professor Salucci capisce molto bene questa materia, per noi sono veramente oscure queste materie che suggerisce Pablo Aia, quella sua battuta da simpatico romano con tutto l'amore che ho per i romani, ovviamente lo dico con veramente affetto. E quindi parliamo di galassie, materia oscura, world halls e speriamo che il professore abbia vita di noi e ci aiuti a comprendere bene una materia che è affascinante, che è straordinaria e che soprattutto può aprire scenari addirittura fantascientifici come ci spiegherà lui stesso tra poco. Prego professor. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 quando uno vede una luce in uno specchio e quindi qui abbiamo che la parte centrale è una galassia e le quattro punti luminosi che noi vediamo è lo stesso quasar che viene visto quattro volte differenti perché la luce passa una parte passa da una parte, passa a destra, l'altra luce passa a sinistra sopra e sotto e quindi in certi casi noi vediamo un oggetto, lo vediamo quattro volte ma in realtà è una svolta sola, quindi questo è per dire come anche a livello della fisica normale ci sono delle cose abbastanza straordinarie. Andiamo avanti e quando noi partiamo con i buchi neri io penso che la maggior parte di voi già conosce alcune cose fondamentali, cioè con i buchi neri è possibile la trazione vertezionale è così forte e qui diremo che lo spazio-tempo è così rotto, così distorto tale che nulla può uscire. Qui ho messo anche una formula matematica che rappresenta questo ma non è questo il punto, il problema era che è una cosa scoperta da 1935 e anche se prima già qualcuno aveva parlato di cose molto simili e che rappresenta il fatto di dire che se noi abbiamo una massa concentrata in una zona dello spazio molto molto piccola è praticamente indispensabile arrivare alla conclusione che lo spazio-tempo viene proprio rotto e lo spazio-tempo assume una particolare forma. Andiamo avanti e per esempio hanno già, ripeto dal punto di vista proprio tecnico, devo dire che i buchi neri sono proprio soluzioni delle equazioni Einstein, cioè quindi non si sta parlando di fantascenza o che altro, i buchi neri nascono come una soluzione e in particolare c'è questo il raggio di Schwarzschild, cioè il raggio dentro cui appunto noi non possiamo vedere niente perché la luce non esce. E' importante vedere che ci sono anche dei fenomeni al bordo con quell'effetto appunto come è vero che la massa distorce a livello infinito del centro, ma siccome distorce lo spazio anche vicino al buchi nero, uno vede, per esempio, nel primo caso qui stiamo parlando di gas e vede questo gas che cade dentro il buchi nero e noi vediamo questo e qui invece è un background che è uniforme, noi lo vediamo, vediamo questo anello semplicemente come un effetto di lente gravitazionale. quindi questo e questo naturalmente definisce il buchi nero che, andiamo avanti, ha appunto semplicemente una zona che viene chiamata ecosfera da cui è possibile ottenere addirittura energia, quindi non è che noi stiamo parlando di cose in diciamo quasi di fantascienza, è possibile ottenere energia del buchi nero alle spese del buchi nero da una zona, diciamo, esterna del buchi nero, quindi infatti uno può addirittura immaginare, no, di civiltà che usano questa, diciamo, energia per i loro scopi energetici. Poi abbiamo l'orizzonte degli eventi che è appunto dove praticamente l'ultima possibilità per uscire dal buchi nero, cioè questa è da, in questa zona qui, al centro, diciamo, le orbite sono fissate nella caduta dentro il buchi nero e la cosa importante, come abbiamo detto, abbiamo questa singolarità al centro che la realtà in generale non riesce a spiegare. questa parte qui è di fuori dalle soluzioni di Einstein, anche nelle soluzioni di Einstein c'è un infinito qua, quindi esiste una, diciamo, singolarità. Andiamo nel prossimo. Naturalmente i buchi neri hanno anche un aspetto astrofisico, e questa era la zona precedente e esistono praticamente questi accresso con materia dall'esterno, però sia chiaro che non è vero assolutamente che mangiano qualunque cosa ci sia, perché l'effetto dell'influenza, l'influenza diretta di un buchi nero è spesso molto piccola, seppur spettacolare. A distanze, diciamo, maggiori di un buchi nero, per esempio potrebbero essere, non so, la distanza da, per il sole sarebbe già la distanza della terra, non riuscirebbe, se il sole diventasse un buchi nero, non, ovviamente, non ingloberebbe la terra assolutamente, soltanto, ovviamente, il materiale che è nelle vicinanze del buchi nero stesso, perché l'effetto a grande distanza è abbastanza, diciamo, trascurabile. Nelle regioni vicini e vicinissime al buchi nero, dove sulle regioni non c'è, diciamo, la realtà generale entra, allora ci sono degli effetti che noi vediamo in astrofisica, cioè noi vediamo questi jet e li vediamo sia da stelle e sia da galassie. Ora andiamo avanti nella prossima. Ecco, questa è la nostra galassia, se noi andiamo al centro della nostra galassia, naturalmente questa qui è una ricroduzione, ovviamente, e al centro esiste, oppure non è gigante, è come un milione di minacce solari, ce ne sono altri che sono anche fino a un milione di volte maggiore, e andiamo avanti, e su questo, ecco, questa è la zona più o meno del buchi nero visto dal terra, se andiamo avanti, ecco, e qui è come è stato scoperto, in modo definitivo, la presenza dell'un milione del centro della nostra galassia. E qui sono stelle, sono delle stelle che vengono seguite nelle orbite, ok? Queste sono le orbite per naturalmente circa 13 anni, alcune di queste, alcune ancora di più, e tutto, praticamente, lo studio di tutte queste orbite portano al fatto della presenza al centro, no? Di qualcosa che qui non si vede, no? Chiaramente è un buchi nero. Da notare che questa zona di gas sta andando, cadendo, quando cadrà, no? Possono essere mille, dieci mille, centomila anni, praticamente farà un bel effetto, perché ovviamente tutto questo gas, nel momento stesso in cui cade, insomma, limite, emetterà una reazione mostruosa. Comunque, per ora, noi abbiamo la presenza, da queste stelle, la presenza di un buchi nero centrale nella nostra galassia. Andiamo avanti. Ecco, di nuovo, appunto, voglio dire sempre che noi abbiamo queste, l'equazione di Einstein, in cui praticamente dice che sostanzialmente la materia curva lo spazio, e lo spazio che curva, diciamo, lo buttisce alla materia dove muoversi. Questa è la formula, per il buchi nero più generale possibile che esista. Quindi, di nuovo, qui io metto queste formule solo per dire che qui non stiamo parlando di fantascienza o che altro, qui stiamo parlando di, diciamo, di soluzioni studiate da fisici, fisici matematici e così via. Andiamo nella prossima discorso. Allora, qui io devo partire dalle galassie. Allora, un altro, diciamo, questo è un altro ingrediente del mio discorso. Naturalmente io penso che qualcosa già, diciamo, si sappia, quindi sapete bene che sono le costituenti dell'universo, cioè nell'universo ci sono stelle, galassie, per basta. Le galassie poi qualche volta si mettono insieme, però, insomma, non è questa la cosa principale. E sono due tipi, soprattutto, uno che è una spirale, come la nostra, e uno come un'ellittica, che è una sfera di stelle. Queste sono le galassie, quelle che noi vediamo, cosa che noi vediamo con gli telescopi di una galassia, ma anche con l'occhio nudo riguardo Andromeda. Andiamo avanti. Ecco, questa, per esempio, è una bellissima spirale, e uno può vedere che all'interno, se uno, dal punto di vista luminoso, dal punto di vista visivo, uno vede stelle, vede delle, questa qui è della nube, possono essere delle polvere, e poi vede anche, per esempio, delle supernove, vede insomma tutto quello che noi conosciamo in astronomia. Andiamo avanti. Qui c'è il problema, invece, della Darmatte. Dove nasce il problema della Darmatte? Nasce in tanti aspetti, cioè non nasce soltanto in un nuovo aspetto, ci sono degli indizi, no? Ognuno dei quali è una prova speciale. E questo è importante, perché quando uno vuole trovare una soluzione, non deve dare la soluzione soltanto a un indizio, deve dare la soluzione a tutti quattro o cinque indizi. Il primo indizio, uno degli indizi, più importanti, è questo. Qui noi abbiamo, allora qui, e abbiamo del gas. E qui abbiamo un cluster di galassie, cioè un ammasso di galassie, e questo è un ammasso di galassie. Il, con, diciamo, un nuovo molto, la massa di tutto l'oggetto è quella, diciamo, vista nel blu. E in rosso c'è invece la distribuzione di gas. Cioè, quindi, vista, diciamo, quando uno va a controllare, si accorge che, praticamente, qua non c'è nessuna massa, però si vede dei moti come se ci fosse, e qua, in cui c'è la massa, i moti non sono, diciamo, dovuti a questa massa qua, ma sono dovuti a questa massa che non si vede. Cioè, noi vediamo, praticamente, queste due, un enorme, due sfere di masse di oggetti, ma non sappiamo identificare, non sono identificati la natura di questo, perché, chiaramente, non c'è, non corrispondono queste galassie che noi vediamo su solo una piccolissima parte rispetto alla massa che noi vediamo, che in ognuno di questi due è circa 10 volte la massa in questo componente che è appunto di gas. Quindi, praticamente, se uno va poi a analizzare la cosa, allora, all'inizio c'erano due ammassi, questo ammassi qui era qua e questa ammassi qui era qua, e ognuno di questi al centro aveva una parte di questa massa qua, del gas aveva il centro. Poi si sono scontrati, allora, le componente di gas si sono, praticamente, piantate fra di loro e sono arrivati in un piano, è stato in un piano perché si sono scontrate, perché tra i rischi sono fra di loro. La materia oscura invece non interagisce fra di loro, e si sono impassate una sull'altra e quindi, praticamente, alla fine hanno perso, diciamo, il loro gas gas e stanno allontanandosi dopo il loro, diciamo, il loro scontro. Questo è un'evidenza, diciamo, spettacolare, sempre sulla scala cosmologica e sulla scala, appunto, degli ammassi di galassie, però qua non si riesce in nessun modo a spiegare con ciò che noi conosciamo questo evidente. Viene chiamato il bullet cluster, perché appunto il bullet è come se fossero proprio sparate, no? Le due sezioni sono sparate uno contro l'altro. Vediamo nel prossimo. Nel prossimo abbiamo delle galassie. Nelle galassie noi abbiamo i moti, i moti delle regioni esterne, quindi qui è una cosa simile a quello che ho detto prima. I moti delle regioni esterne non corrispondono a ciò che noi vediamo. Noi possiamo analizzare, guardando una bellissima galassia, e se andiamo nel prossimo, noi vediamo, per esempio, una galassia che si estende fino a qui e non esiste niente materiale in questa zona e uno aspetterebbe, no, che la velocità con cui ruota la galassia sia, come se fosse tutto questo genere, va verso zero perché è finita la galassia. Quello che noi osserviamo, invece, dai grandi telescopi di cui parlavo prima, è che, invece, il profilo è totalmente differente e sembra che finisca, non ne abbia, diciamo, alla fine della galassia visibile, continua la parte invisibile della galassia. A dico che, all'oggi, noi non sappiamo fin dove arriva. Possiamo avere delle idee teoriche, ma dal punto di vista, diciamo, osservativo, noi non sappiamo dove, se la galassia, che è questa galassia qui, che finisce sicuramente in dimensioni qui, ma potrebbe finire qua, potrebbe finire molto più lontano, perché non abbiamo ancora le prove, ma sappiamo che, comunque, la stragrande maggioranza della materia nelle galassie, circa più del 90%, in molti casi più del 99%, in questo caso qua il 97%, è in una componente che non si vede, che però è capace di attrarre fortemente la materia visibile, cioè riesce a agire dal punto di vista gravitazionale, però non emette nessuna creazione in alcun tipo che noi riusciamo a identificare. Questo è, diciamo, abbastanza standard, andiamo nella prossima depositiva. Ecco, questa è la zona, no? Allora, praticamente, una galassia è fatta con una zona centrale di stelle, anche nella zona centrale è immersa con una nome di materia oscura che viene esteso moltissimo. Quando si è esteso non sappiamo ancora. Qui l'immagine è, in un caso particolare, quello che noi riusciamo effettivamente a misurare per questa galassia qua, però il problema è che noi non riusciamo a misurare oltre perché i nostri strumenti non sono capaci di andare oltre. Quindi noi, appunto, estremamente non sappiamo bene alcune cose. Andiamo avanti. Allora, quindi è particolarmente importante, e qui non lo voglio dare più, diciamo, in dettaglio, perché noi sappiamo che, diciamo, tutta la materia dell'universo, noi abbiamo che gli atomi sono solo il 5%. Poi abbiamo Darmatter, il 20% e il Darmatter, il 72%. Poi, le formazioni delle strutture. Questi atomi qui da sole, lasciati da sole, non avrebbero mai potuto formare le galassie, come li vediamo oggi. Poi abbiamo, nelle galassie dei cluster, delle evidenze proprio spettacolari, delle presenze, e naturalmente, al servo degli altri, stanno cercando di ottenerla e di studiarla. La cosa importante è che questa materia oscura di cui ho parlato io non esiste, ma è lo standard delle particelle elementari. Cioè, le particelle elementari non hanno nessuna particella conosciuta in laboratorio finora. naturalmente, chiaro, queste caratteristiche da poter effettivamente spiegare tutto quello che ho detto prima. E, per questo, naturalmente, le stanno cercando in tanti modi differenti. Un modo per cercare, appunto, è di cercare di produrla, senza nemmeno andare alla scelta, perché non si sa nemmeno che cos'è, però si cerca di produrla al CERN, o si cerca di rileverla in altri, diciamo, esperimenti. Andiamo nel prossimo. Ecco, per esempio, abbiamo, attraverso gli effetti che la materia oscura potrebbe avere, piccoli effetti sui neutrini, questo viene al Polo Sud, c'è una struttura gigantesca che, praticamente, detto in modo molto molto semplice, riesce a catturare una di queste tantissime particelle. Allora, in questa stanza, in ogni centimetro qualcuno di questa stanza, ci sono circa 100 di queste particelle oscure, o forse anche di più. Quindi, però, ognuno di noi è attraversato in ogni momento da miliardi di queste particelle. Naturalmente, però, siccome, come ho detto prima, non hanno interazione elettromagnetica, non hanno interazione debole, il nostro corpo e anche gli atomi non interagiscono. In realtà, una piccolissima interazione ce l'hanno, e se uno costruisce una cosa gigantesca, andiamo avanti, è, per esempio, una strada costruente, questo è un rivelatore che viene fatto per un certo tipo di particella in Germania, o, andiamo avanti, questo è un altro che è negli Stati Uniti, questi qui sono, è acqua, questi qui sono, questi sono i miei levatori, andiamo avanti. Ok, se uno riesce a costruire dei miei levatori molto molto giganti e molto molto efficienti, uno può riuscire in un anno di tempo a catturare una di queste particelle. Cioè, naturalmente, se esiste quel tipo che qualcuno è capace di catturare. In realtà, invece, noi sappiamo che, indipendemente da quale sia la particella, cioè la particella, appunto, ha un certo flusso che viene sulla Terra, perché, naturalmente, la Terra gira sia nella galassia, intorno al centro galattico, ma sia anche attraverso il Sole, cioè gira intorno al Sole. Quindi, praticamente, uno misura, ad esempio, a settembre il flusso massimo delle particelle deve avvenire, appunto, in questa data. Il minimo è a marzo. Quindi, alcuni degli esperimenti cercano di vedere, no, le particelle, la differenza di particelle che arrivano sulla Terra, praticamente, tra settembre e marzo. E questo, perché, naturalmente, come ho già detto, il numero di particelle che possono essere candidate e che uno ottiene in questi, diciamo, esperimenti, è un numero molto molto piccolo, perché la maggior parte delle particelle che uno vede sono prodotti per luogo, sono altre cose, sono delle, come noi abbiamo chiamato, un fondo. Il fondo è talmente alto, il fondo di particelle è talmente alto, che prima di prendersi una che è veramente talmente, bisogna, veramente, essere estremamente, diciamo, longevi e, praticamente, aspettare un po' di tempo e, soprattutto, costruire strumenti giganteschi. E, quindi, andiamo avanti. E, appunto, questo era uno di quegli strumenti che ci sono già, ed è, appunto, quello del Polo Sud, voglio far vedere, questi sono i rilevatori, sono migliaia e migliaia di rilevatori e questa è la Torre Eiffel, ok? Insomma, che tutto questo è all'interno del Polo Sud. Questo, finora, ha misurato per circa 3-4 anni e, naturalmente, può misurare solo alcune particelle in realtà, non ci sono tante famiglie, quindi questo qui non è neanche per tutte, per una particolare. E la risposta è zero, ok? Non è stata trovata, naturalmente, neanche una di queste particelle che mi sono cercate. Andiamo avanti. E, al CERN, allora, il problema è che quando c'è, diciamo, un scontro, no, tra protoni, al centro, vengono formate tantissime particelle tra cui la zona di X di qua. Se uno va molto lontano, 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 circa 300 metri, e ci sono, e ci sono, c'è un altro rivelatore che va a venire proprio quello che potrebbe essere le particelle di materia oscura. Quindi, stanno cercando di produrle qui e andate a vedere lontano dove i bosoni e gli altri non arrivano, perché le altre particelle, immediatamente, quando, nel momento in cui interagiscono fra di loro, si distruggono. Queste particelle, invece, continuano, anzi, all'opposto, cioè continuano e scappano via senza interagire scientificamente, quindi bisogna andare a catturare. Questo vuol dire che anche al CERN si cerca, comunque, di produrle queste particelle, no, e finora la risposta è zero. Beh, però, naturalmente, i progetti ci sono. Andiamo avanti. Ecco, questo qui è il CERN, quello appena ho detto, andiamo avanti. Ok, now, ora si può parlare, appunto, del wormhole. Quindi, abbiamo parlato di materia oscura, abbiamo parlato di piccoli all'inizio. Allora, se uno vede una mela, magari questa è la mela che è caduta da Newton, cioè se volete andare dalla regione da A a B, dovrebbe fare questo sotto la superficie della mela, però potrebbe avere una scorciatura e passare attraverso come un vermicello del metto, passa all'interno e arriva prima nella mia sensazione qui, perché, naturalmente, ha superato, no, la topologia della mela. Cioè, la topologia della mela sarebbe la topologia della superficie della mela. Quindi, un wormhole è una cosa simile a questo, come vedremo, è capace di penetrare, diciamo, lo spazio, lo superspazio e unire regioni che tra di loro sono distanti. Andiamo avanti? Ok. E la prima idea è stata questa. Vi ricordate che questa qui è un wormhole? Quindi questa qui è la caratterizzazione della linea di forza di un wormhole. Se noi lo mettiamo in un altro, ad esempio, un universo e lo colleghiamo queste due, perché non da solo c'è una singolarità. Se noi avessimo due wormhole collegati l'uno con l'altro, le due singolarità si cancellano una con l'altra e quindi si crea uno, un discorso che da una parte è un record, da una parte sarebbe un white hole. Cioè, la materia uscirebbe da questo e entrerebbe da quest'altro. E in questo processo, naturalmente detto anche a questo processo, uno collega due regioni di spazio, totalmente differenti. Questo qui, chiaramente, avanti andiamo in avanti, per essere chiaro, è stato usato da questa stella e questo qua voglio farvi vedere quando prima ho detto che un fortissimo campo gravitazionale può distorcere tutto quello che c'è intorno. Quello che noi vediamo è proprio la materia che gira intorno a questo disco e si viene chiamato il discorso del screscimento che viene così distorto da questo super, super massimo record che chiaramente crea questi fenomeni visti da lontano. Quindi, perché in questo caso, naturalmente, non immaginiamo che dall'altra parte dell'universo ce n'è uno simile a questo. Allora, quello di cui parlo, io parlo di Kip Thorne, che è uno degli scienziati più importanti del mondo, è in relatività generale e anche quantistica e non quantistica, e che praticamente stiamo parlando di risultati o cose che sono nei libri di testo. Quindi, anche se naturalmente magari il grande pubblico lo vede praticamente per la prima volta, ma ovviamente è sorpreso, ma questo discorso, diciamo, era ben chiaro per gli addetti al lavoro durante molto tempo. Andiamo avanti. E questo, infatti, è il lavoro originale da cui in appunto, anche se prima c'erano cose simili, però il primo discorso originale sui quorum è stato dal Kip Thorne nel 1987. Quindi, come vedete, cioè, è una cosa che, naturalmente, quindi noi abbiamo sostanzialmente due regioni dello spazio, due regioni dello spazio differenti che possono essere unite fra di loro da due plecore. Cioè, se i due plecore possono, naturalmente noi abbiamo detto che devono, queste possono, e noi stiamo parlando, naturalmente il collegamento deve essere di un centro tipo. e qui siamo importanti. Se sono due stelle, il collegamento deve essere un'energia negativa, che può esistere, soprattutto oggi, noi pensiamo che possa esistere. Nel 1987, forse no, perché ora noi sappiamo che quella che è chiamata energia dell'universo, la dark energy, è un'energia negativa. Cioè, le solifiche energie sono positive, questa significa energia negativa. Quindi, la presenza di energie positive in certe parti dell'universo non è così oggi, così, diciamo, strana e belleggina. Nel 1987, invece, era, poteva essere, probabile, però, naturalmente, non c'erano tantissime evidenze a favore. La cosa, voglio che voi ricordate, in momento, questo discorso qua, che si uniscono due plecore, quindi due singolarità spazio-temporali, si uniscono attraverso una, viene chiamata una gola, e questa gola deve avere delle particolari proprietà. Che, se, naturalmente, noi stiamo parlando di atomi, qui deve esserci qualche parte di uniscono negativa. Se no, appunto, non esistono questo genere. Andiamo nel prossimo. Ecco, questo è, appunto, di vista. Qui abbiamo, appunto, due plecore collegati e questo qui. E, naturalmente, in questa zona, in questa zona, quella che viene fatta, è, deve esserci, naturalmente, energia negativa. Quindi, non c'è nessuna energia che noi possiamo dire chiaramente che è stata ancora prodotta al laboratorio. Però, può esserci, perché, infine, ci sono tantissimi casi in cui, effettivamente, seppur esotici, ci sono casi in cui questa energia esiste. Per esempio, Einstein, Stephen Hawking usa, in alcuni dei suoi teoremi, in alcune delle sue cose, l'ipotesi, che l'energia in questione sia un'energia negativa. Andiamo avanti. Ecco, ripeto, questo è quello che praticamente ho detto. Questo vale, naturalmente, nel caso in cui noi stiamo parlando due fileri attaccati. Ora andiamo da diversi. Andiamo avanti. Ok, andiamo avanti. Ecco, quindi, ripeto, per l'ultima volta, questo è lo spazio. Lo spazio, il buco nero qua, è capace di, praticamente, di romperlo e di, diciamo, attraversarlo. Quindi lo spazio contemporaneo si arrotola su se stesso e passa, appunto, attraverso il collegamento tra questi due bucchini. Nel nostro caso, appunto, uno è sulla Terra e uno è sul Silvio. Bene, questo è, naturalmente, ovviamente, è un'ipotesi. Non è che questo è gioco per spiegare. Andiamo avanti. Ecco, allora, qui noi abbiamo, questo è stato un lavoro in cui, qui entriamo nel discorso della materia oscura. Perché entriamo la materia oscura? Perché noi mettiamo, appunto, che le galassie sono fatte soltanto dalla materia oscura. In realtà è il 99%, quindi, naturalmente, è chiaro che esistono anche le stelle dentro le galassie. Però, in prima approssimazione, vediamo cosa succede se noi consideriamo le galassie soltanto dalla parte oscura. E allora quello che abbiamo trovato è che c'è, è pubblicato su una rivista su cui ha pubblicato Einstein nel 1915 alcuni dei suoi risultati principali, quindi una rivista, diciamo, del tutto fisica, quindi non è focus o altre cose. Qui stiamo parlando di analysis of physics e il fatto che è possibile che esistano, allora, nella parte città della galassie, a nome, diciamo, l'attaccamento delle due parti avviene naturalmente perché la materia oscura è europea. Andiamo avanti. Quindi, allora, noi abbiamo, questa qui è la caratterizzazione, no, del fatto che uno ha una riscontrificata nello spazio-tempo. Questa ha la materia, non è la materia di una stella, bene? Ma è la materia della materia oscura, di cui noi sappiamo la densità. Quindi questa è l'unica differenza che noi abbiamo con lo scenario precedente. Quindi, la cosa interessante è quando uno usa l'equazione di Einstein con queste, diciamo, caratteristiche, la soluzione, andiamo avanti, la soluzione che noi abbiamo qui, la faccio vedere solo per dire che è una cosa scientifica, andiamo avanti, e la soluzione, praticamente, fa sì che si vengono unite due zone della galassia naturalmente, senza bisogno di quell'energia negativa, che era, naturalmente, in un certo senso, un grosso ostacolo nella teoria precedente. Ho detto un ostacolo, ma non essenzialmente l'invisione montabile, perché, come abbiamo detto precedentemente, possono esserci altre situazioni di energia negativa. Ma in questo caso, senza bisogno di alcun'altra, soltanto usando la materia oscura, la materia oscura è capace di collegare due uomo che, naturalmente, vanno creati, non è che crea la materia esterna, però è capace, automaticamente, di cambiare, naturalmente, lo spazio-tempo in modo attraversabile, come viene detto, cioè che i due punti neri che ci sono, sono a questo punto praticamente stabili, non si richiudono su se stessi quando passa una, praticamente, una massa, e, soprattutto, non hanno bisogno, appunto, di energia estra, come in questo qui. Naturalmente, ovvio, e questo deve essere chiaro, allora, innanzitutto, che continuamente a quello che ho scritto nella stampa, così, questa non è una mia scoperta, no? Noi abbiamo semplicemente usato, semplicemente, la nostra scoperta che noi abbiamo e facciamo è sulle proprietà della materia oscura. Quindi, questo è uno spin-off delle proprietà della materia oscura che ci ha anche molto sorprese, ma che, naturalmente, può lasciare lì, perché il vero problema è che cos'è questa materia oscura, perché è una cosa, praticamente, che sicuramente, noi sappiamo ora, è qualcosa che sconvolge la fisica. Questo è ancora più importante. A me mi hanno detto di non dire alcune cose, però, e non le dico, però questa qui, invece, la posso dire, anzi, mi hanno detto di dirla più di una volta. Cioè, la materia oscura è sicuramente una cosa che sconvolgerà la fisica, perché è anche fuori della fisica conosciuta, praticamente, proprio, assolutamente. E uno degli effetti, insomma, secondari di questo che abbiamo visto è che permette, nella nostra galassia, no, di collegare un buon zone. Naturalmente, naturalmente, è chiaro che bisogna ottenere queste lecole. E c'è, e io non ho mai idea come si possa fare, nessuno sa come si possa fare, però, insomma, in un altro caso comunque, siccome nelle galassie, al centro delle galassie ci sono enormi lecole, tra forse, forse no, qualcuno potrebbe vivere nel futuro, no, in intagare su questo. Lo ripeto, non è il mio lavoro principale, non è neanche la cosa come più interessante, no, che io faccio, io faccio proprio il cercare come le galassie si vengono create, vengono conosciute e così via. Quindi ci sono tantissimi altri fenomeni collegati in questo discorso molto più importanti e molto più, diciamo, dal punto di vista degli astrofisici e dei cosmologi. Quindi, per questo deve essere chiaro, insomma, non è che uno, cioè, voleva diventare famoso su queste cose e questo qui non è, perché poi, magari, la stampa riporta in modo sbagliato. Cioè, questa è una conseguenza che io mi sono trovato insieme a tante altre e questa conseguenza, ripeto, io stesso non l'ho evitato lì. Il comunicato stampa l'ha fatto la sissa, non l'ho fatto io, no, perché io stesso non lo ritenevo così importante. Nel senso che, appunto, questa è una caratteristica che noi abbiamo della struttura della galassia, però, appunto, bisogna che qualcuno crei un wormhole, diciamo, precedentemente. Una cosa è dimostrare che esiste e che può essere naturalmente stabile e una cosa invece è crearlo, no? Però, nelle strutture spazio-temporali distorte come il Bricore o wormhole o così via, la gente pensa, cioè, gli scienziari pensano che esistano, cioè, non è una cosa, diciamo, fantascientifica, e, inoltre, poi, quello che deve vedere sono i dettagli, perché io ho usato tutta una serie di assunzioni, no, che ho fatto, quindi, chiaramente, bisogna vedere poi i dettagli, no? E spesso, magari, il diavolo della conta, no? Cioè, quindi, bisogna stare attenti anche a questo. Però, è una cosa che ha attirato, soprattutto perché questa soluzione qui era stata fatta due volte, cioè, questa qui è una soluzione matematica, ed è, se uno va prima, la stessa trovata nel film in testella, no? Però questo qui è fatto due anni prima, per questo, magari, la gente è interessata. Ma, ripeto, è fantascienza su questo qui, e sia chiaro che nella sissa non costruiamo wormhole, non ci crediamo nemmeno, e così via. Però, appunto, è importante capire, no? Che questa è un'interiore stranezza che ha la materia oscura, che, effettivamente, insieme con l'energia oscura, che, di nuovo, ripeto, è un'energia negativa, bene? Cioè, che, praticamente, è più uno va lontano, è più efficiente, tanto per dirgli una. E quindi, le cose strane dell'universo sono talmente tante che non c'è bisogno di metterci, anche, insomma, gli estaterrestri, no? Questo qui, poi, per quanto riguarda il resto, non posso nulla. Grazie, professore. Non lo dite in più il resto della sissa, perché se no, ecco, questo è un volere, eh. Ah, questo qui non lo dite l'ultima. Un'altra, per favore. Sì. Ah, non c'è. No, 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 no! Mi sono auto-cessorato. Però, un'altra conclusione, perché lei, giustamente ha detto, la scienza, arrivata ad un certo punto, poi, c'è la fantascienza, ovviamente. La fantascienza ci potrebbe portare anche a sognare, ovviamente, lei parla qua da cittadino, non da professore, siamo chiari. ovviamente ha spiegato perfettamente la posizione ufficiale e scientifica del suo studio che è molto serio come avete ovviamente capito se esistessero davvero questi wormhole se fosse possibile creare queste scorciatoie tra virgolette galattiche ci sarebbe anche una conseguenza interessante cioè che qualcuno in grado di farlo potrebbe usarle allora di nuovo qui sono cittadino Paolo Salucci sono internato tra l'altro non capisco perché poi siccome effettivamente sono ricevuto delle minacce così allora mi sembra strano comunque come cittadino uno dei grossi problemi per creare una cultura intergalattica è le distanze senza distanze non esiste questo qui è un modo per avvolire se effettivamente esistessero per avvolire le distanze questa non è un'idea mia ma è un'idea che c'è in moltissimi altri e per cui è cruciale il fatto perché comunque diciamo qualunque entità qualunque cultura galattica non può superare i problemi della fisica normale per cui avrebbe la velocità della luce come massima velocità però questi sono gli sconcettori per andare molto più veloci come professore, lei l'ha detto poco fa, la fisica si sta prendendo scenari che sembravano impossibili quindi veramente abbiamo la conoscenza della realtà che ci circonda minima non abbiamo giustamente questo è un'altra cosa no, giustamente ci sono tanti altri per esempio sono grandi passi in avanti per quanto riguarda quello che viene chiamato quanto in tanti cioè per esempio siamo una cosa quasi fantascientifica perché non può portare un elettrone con una velocità infinita da un po' di uno spazio e questo è una cosa complessa ma sembra che stiano facendo dei passi in avanti la fisica si, soprattutto perché una cosa che volevo dire al pubblico è questa cioè che col bosone di X tutti devono andare a casa cioè nel senso che ha scoperto tutto quello che c'è quindi dal punto di vista classico abbiamo finito tutto però ci sono moltissime evidenze cioè che c'è qualcos'altro quindi non è nemmeno detto cioè il problema grosso è che se qui per esempio c'è un esempio abbiamo più una c'è la giornata in chiesa della presentazione no, 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 no cioè il problema è che se questa qui è tutta la conoscenza nostra che noi abbiamo in fisica, nell'universo le cose che la gente, le nuove cose non è che stanno qui cioè non è che ancora qui non riesco non è che stanno vicini e guardano questa zona possono stare legge un fuoco e questa forse è la cosa proprio di evoluzionare cioè che il, diciamo, il prolungamento del modello standard non è che è semplicemente cose abbastanza vicino al modello ma possono essere cose totalmente differenti quindi proprio una nuova fisica e da scienziato quando sente un altro scienziato dire questa cosa è impossibile perché la scienza non lo permette lei cosa pensa? cioè ovviamente dipende dai casi cioè in certi casi ovviamente se uno desci che legge il pensiero o guardate, va bene in altri casi spesso viene usato in modo molto, cioè malamente questo discorso caso per caso in certi casi effettivamente uno può dire che la scienza non lo permette però cioè io ho sentito dire anche una mia collega di cui non faccio il nome molto famosa che Dio non resiste perché viola la condizione dell'energia insomma, ecco, ma questo qui io su questo non c'è cioè sul fatto lo scendismo a tutti i costi lo scendismo a tutti i costi no però è anche vero che in molti casi appunto quelli che parlano di, per esempio medicina polistica quantistica cioè che attraverso non so bene cosa curano anche malattie gravi ecco, quelli sono secondo me quasi da da denunciare insomma, perché si approfittano delle credibilità la sua opinione chiaramente in questo caso da scienziato e da cittadino no, questo non lo posso dire ma si è sposta in maniera molto attrazione adesso tu mi resta ah, sull'intisolo non trovo sono su quello ho capito quindi ha avuto la consiglia di scienze no, no eh sì, perché anche perché noi sappiamo altre cose che chiaramente no allora per non non devo dirle quindi le altre notizie esclusive quindi lei ha la sensazione che la fisica potrà nei prossimi anni anche in tempi brevi dare delle sorprese straordinarie esatto in tante parti perché la fenomenologia dell'universo o più o più anche delle strutture è una fenomenologia molto complessa noi abbiamo queste teorie bellissime no dell'elettromagnetismo il modello standard la gravità la relatività generale ha sono perfette però non riescono a notare ha dei notevolissimi e uno è la materia oscura l'altro è l'energia oscura l'altra è certe cose che non ci sono qui a dire ma ci sono a questo punto per esempio le particelle elementari no al momento attuale il numero delle particelle elementari è qualcosa tipo 637 quindi è questo siccome il concetto era come voleva diventare arrivare a un numero piccolissimo di particelle a 1637 particelle elementari non è poi che la teoria funzioni così bene quindi l'idea proprio strutturale che stiamo cercando cose completamente nuove a livello puramente filosofico perché ovviamente non ci sono prove evidente come dice quindi non si può fare ipotesi né sbilanciarsi a livello puramente filosofico la possibilità della vita extraterrestre di cui parliamo oggi ipotesi suggestioni questa possibilità è fondata sì sì no ma questo viene spiegato anche per esempio da mio amico Funes quello di cui parlava e anche Carlo di cui parlava no che è sinistra di magna io li conosco cioè no il problema normalmente lo scienziato deve dire che la vita esiste nel mondo cioè questo è il discorso perché è il rasoio di Ockham dal punto di vista scientifico e anche perché ora stiamo vedendo un sacco non ripetere terra e così via cioè è più facile dire che esista il problema quando può dire quanto diffuse sono e soprattutto cosa sono allora lì entra un altro tipo di trascendimento e allora lì alcuni stanno molto attenti che c'è una pressione esterna naturalmente da non giustificare certe cose anche perché poi qui si entra nel discorso che molte alcuni studiose appunto del fenomeno sono scientifici come un primo Roberto Pinocchio però altri non lo sono e quindi non corre il rischio di un certo punto di vista di fare pessima figura lasciandosi spesso di compromettersi in situazioni un punto avanzanti esatto esatto quindi l'idea è quella di stare calmi e aspettare che la NASA c'è a luci dove è trovato il primo organismo speriamo che cada pressa forse ce l'hanno già trovato l'anticipazione l'erotico ma sì l'idea che insomma di più brevi avremo delle sorprese da questo e da molti altri punti di vista a livello completamente scientifico quindi non immaginazione non fantasie ma dati reali che stanno per emergere sempre di più esatto perché tanto per fare un ultimo esempio uno dice che dice ma andiamo la NASA è ormai definita non possono scoprire niente ora tanto per dire l'idea della crisi della fisica normale il prossimo acceleratore dovrebbe essere per poter essere competitivo 100 volte più grande quindi si sta parlando non di 27 km ma il 27% fate voi e i cinesi forse lo vogliono ma se hanno soldi non penso che poi lo fanno questo per dire che siamo arrivati alla nuova schiare in panini però sempre con i problemi grossi come natural i problemi sono sempre avanzati cioè non è che si sono stati risolti però abbiamo finito le risposte in vista della fisica io dico ci sono grandi sottese poi sulle altre cose forse altri ti aspettiamo grazie lo so saluti abbiamo scorato il tempo domande molto brevi se potete non so se scusa se c'è Barbara che può raggiungerci un attimo facciamo solo tre abbiate pazienza perché tutti quanti uno due e tre dai facciamo uno andiamo Barbara qua davanti la signora prima qua qua davanti grazie dottoressa grazie volevo solamente chiederle tutto questo si gira intorno ad Einstein però noi sappiamo che adesso le dimensioni di Einstein stanno per essere superate o qualcuno pensa che siano superate ne parlo da ignorate quindi la quarta dimensione o addirittura le nuove dimensioni che si stanno ipotizzando potrebbero dare una risposta a questa non fisica che noi non conosciamo ok queste sono tante domande insieme la prima domanda è che Einstein ha più soluzioni ed è verificato al 100% il problema è che Einstein vede la gravità non vede non è riuscito a unificare nessuno è riuscito a unificare la fisica quantistica quindi quelle dimensioni in cui stiamo parlando sono a livello quantistico per ora sono scollegate noi stiamo guardando a larga scala e noi stiamo usando la relatività per i fenomeni dell'universo all'interno dell'atomo qui all'interno del nucleo e così via qui si entra in un altro tipo di discorso e in pratica qui si entra proprio nella fisica ci sono alcune teorie e la teoria una delle teorie principali è quella delle stringhe però di nuovo sembra che è superata e quindi ma questo non cambia assolutamente niente che è la realtà generale perché si sta parlando non del nucleo infinitissimamente piccolo ma si sta parlando dell'universo e quindi è in l'universo ormai la realtà generale è assodata che funziona perfettamente qua al centro una micro considerazione tre anni fa io sono Elena Galliard oggi del giornale faccio la giornalista mi sono trovata a un convegno a Lourdes con Luca Montagnè su medicina di Miracolo e mi partecipò appunto a lui non crede non è allora mi ricordo poi ci fermavamo a parlare e io gli chiesi ma lei come si pone rispetto al Miracolo lui ha detto guarda io mi astendo perché fa non condivido i miei colleghi scienziati e quando non possono dimostrare una cosa dicono che non devo stare allora è una considerazione dell'avere pensato cioè perché lui mi svegava io sono sempre con il punto di domanda sono venuto qui apposta a Lourdes a parte che ci torno molto spesso perché non so cosa rispondere sui mirari però posso rispondere una cosa sulle scelte deve finire di dire che non esistono le cose che lei non sa mostrare questo è il principio comunque della scienza di Tegliati volevo dire la prova volevo dirle questa cosa che non mi piace dove grazie no no Montagnet si ma non è un breve nove ma non nella sua teoria che gli altri perché lui ha la teoria della memoria dell'acqua lì bisogna stare ben attenti allora quel discorso che uno ha fatto in generale è vero ma nel suo caso cioè sta a lui portare le prove e lui le prove non le ha portate cioè bisogna stare bene attenti alla situazione ora i miracoli poi qui io non ho parlato di miracoli cioè in un altro contesto non c'entra assolutamente nulla ci mancherebbe è un esempio era un paragone ma non c'è un esempio è un paragone nel senso che la scienza è intervigliare cosa che hai visto non ci sono no no perché è un po' diverso perché l'estito è su qualcosa che ripeto qualunque scienziato è d'accordo però non può dire che sono da qui questa è la differenza ma che esistono qualunque il mio ma sono tutti d'accordo certo lo hanno ma una cosa è ma se lo dice anche il padre Funes lo dirò anche io no cioè esistenza è assoluto no no questo sì quello che non si dice è perché cosa cosa fanno tutti il resto allora no il resto che esistono lo dice il papa l'ultima domanda poi davvero dobbiamo lasciare anche i nostri relatori in tempo di riposarsi e di mangiare ovviamente abbiamo la domanda là in fondo ecco dai altra voce scusami si volevo farmi una domanda sulla materia scura la materia scura da quel che ho visto che poi ha dei parche lei è completamente diversa dalla materia nostra perché noi siamo al 5% grossomodo di materia 4,5% e la materia scura dovrebbe essere tra il 23% e il 27% di cosa la massa dell'universo e la domanda è questa materia scura io ho letto che compenetra il nostro universo fisico questo nostro 5% si può considerare un universo parallelo quindi io avrei tutta una serie di domande però mi rendo conto perché poi interesserebbe sapere anche qual è cos'è l'energia a pressione negativa andiamo a vediamo di rispondere a queste prime domande la domanda era se ci compenetra si compenetra assolutamente come avevo detto prima in questa stanza c'è in materia scura ci sono particelle la domanda è se viene da un'altra cioè se viene da un'altra punto parallelo punto parallelo una delle prove diciamo dal mio punto di vista la soluzione numero 5 6 è che in realtà viene dall'universo parallelo quindi qualche cosa che noi non riusciamo a misurare però non la vediamo vediamo la gravità si rallenta diventa più debole ce ne accorgiamo perché c'è la gravità e perché le galassie accende la gravità deve andare anche in altri diversi quindi quando c'è detto proprio all'universo però questa qui dal mio punto di vista è la soluzione numero 5 ci sono altre 4 migliori quindi la classifica delle soluzioni è certo qual è la prima secondo lei quindi la prima più probabile nessuno ha ancora capito cos'è la gravità mi fatti capire facciamo capire e apriamo secondo lei la prima ipotesi più costruzione ci sono due ipotesi diciamo che stanno un po' alla fine la prima ipotesi è quella che viene chiamato un nuovo neutrino viene chiamato sterile che è stato proposto addirittura da Fermi che ha le caratteristiche giuste del mio punto di vista non so se avete visto quell'enorme agenzio che passava per le città quello stanno cercando di misurare quando avranno messo sopra il discorso l'altro invece è un bosone uno strano tipo di bosone un concentrato bosonico cioè non è una particella ma è un agglomerato di particelle che di nuovo avrebbe queste caratteristiche che perlomeno può essere però appunto questo si tratta solo diciamo della mia ipotesi qui ce ne sono anche altre che di sicuro quella che prima aveva diciamo che era la gigantesca che era quella della materia oscura fredda cioè un neutralino questa qui sta diventando siccome non è stata trovata perché la gente la scelta non è stato stata trovata finora questo tipo di particelle avrebbe il processo insomma dietro delle possibilità però non si può non si può spiegare cosa sia perché ripeto noi vediamo solo effetti come se noi vedessimo i sintomi ma lo sappiamo la malattia mi aspettiamoci sviluppi sicuramente nei prossimi anni a questo mistero chiamiamolo così che deve essere ancora approfondito dallo studio di tante persone come lei che stanno nei laboratori stanno nell'università e lavorano proprio per darci risposte a interrogative per il momento senza risposta grazie la professoressa Lucci noi facciamo una pausa e ci vediamo alla tua esperienza per favore grazie